Questa presentazione vuole essere una rapida anteprima dell'ambiente Task Builder Design, di alcune sue caratteristiche fondamentali e dei principali strumenti che ne fanno parte. Vedremo brevemente quali sono i motivi che ci hanno spinto verso la sua realizzazione e discuteremo della tipologia di sviluppatori ai quali è destinato. Il lavoro di completamento di quest'ambiente è tuttora in corso ed è quindi possibile che alcune delle osservazioni fatte nel corso di questa presentazione non risultino più del tutto esatte in futuro o che nel frattempo si possa decidere di variare leggermente l'aspetto dell'interfaccia grafica. L'ambiente Task Builder Design costituisce un cosiddetto IDE, ovvero un Integrated Development Environment, che offre un'ampia gamma di strumenti che permettono di intervenire sul prodotto IRP Standard per variarne la struttura e personalizzare parte degli oggetti applicativi nei suoi contenuti. In pratica, l'IDE è un contenitore di vari strumenti di sviluppo dedicati a chi intende creare nuove applicazioni con Task BuilderNet, implementare moduli aggiuntivi o, più semplicemente, personalizzare le applicazioni esistenti. In questo senso, l'IDE è destinata ad accogliere diversi strumenti sotto forma di plug-in, in modo da permettere l'installazione e l'utilizzo selettivi di diverse funzionalità dell'ambiente. In generale, con il termine plug-in, si intende appunto un componente software non autonomo, ma che interagisce con un altro programma al fine di estenderne le funzionalità. Naturalmente, l'interfaccia degli strumenti resi disponibili per l'IDE deve essere il più possibile semplice ed intuitiva. Tra loro deve sussistere la massima compatibilità e tutti devono seguire sempre le medesime logiche operative, di modo che l'IDE sia percepito complessivamente come un oggetto coerente ed omogeneo, sia per il suo aspetto, sia per le modalità di utilizzazione. Inoltre, l'uso della maggior parte di questi strumenti non deve assolutamente presupporre alcuna conoscenza del linguaggio di programmazione C++. La filosofia generale, che ci guida costantemente nello sviluppo dell'IDE Task Builder Design e dei suoi plug-in, tiene innanzitutto conto dei diversi livelli di esperienza e di competenza dei suoi possibili utilizzatori. Stiamo andando verso una direzione nella quale tutte le attività di personalizzazione da svolgere sul nostro prodotto IRP Magonet e che risultano per così dire più sofisticate, vengono gestite in un ambiente separato, cioè l'IDE, rivolto più alla figura del nostro rivenditore che a quella dell'utente finale. E' opportuno concedere a ciascun utente di Magonet un insieme minimo di funzionalità di personalizzazione in place, cioè attivabili direttamente dal programma in esecuzione, che gli permettano di rendere la sua installazione del prodotto più ergonomica possibile, cioè di soddisfare appieno alcune sue esigenze operative. A questo riguardo, nel caso del menu applicativo, si hanno ad esempio le funzionalità relative alla gestione dei preferiti. C'è anche la maniera per modificare l'ordine, la dimensione o la visibilità delle colonne riportate nelle griglie che visualizzano i dati in forma tabellare. C'è inoltre la possibilità di definire nuovi stili di carattere e modalità di formattazione da applicare ai dati. Tutto questo può venire fatto da un rivenditore sufficientemente competente, che conosce bene come usare il prodotto o persino da un utente finale particolarmente abile. Poi c'è il rivenditore che è solito seguire il cliente sul campo, dall'installazione alla configurazione del prodotto e che sa come personalizzare in modo più evoluto Magonet. Questa figura professionale avrà a sua disposizione una versione dell'ambiente Task Builder Design che gli permette di effettuare delle personalizzazioni su gran parte degli oggetti applicativi, dai menu fino ai report o alle form. Infine c'è il profilo riferito a chi effettivamente sviluppa codice per il prodotto e possiede un buon livello di competenze tecniche. Questo tipo di rivenditore dispone di una versione completa dell'IDE che gli consente ad esempio di sviluppare vere e proprie applicazioni basate sul prodotto e volendo di entrare anche in debug delle sue stesse modifiche. Questo è a grandi linee lo schema di categorie di rivenditori con i quali ci troviamo ad avere a che fare quotidianamente. Uno scopo dell'ambiente Task Builder Design è quello di attribuire maggiore importanza alla figura centrale del consulente esperto mettendogli a disposizione degli strumenti che lo rendano in grado di potenziare il proprio giro di affari consentendogli di fornire servizi tecnicamente più avanzati ai suoi clienti e potersene così conquistare facilmente anche dei nuovi. Occorre notare che a questa tipologia professionale appartiene la maggior parte dei nostri attuali rivenditori e quindi una loro valorizzazione è un'interessante opportunità di business. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.